Ciao Gianluca, questo video legame è per te, sono d'accordo che ci vorrebbe maggior rispetto per l'autorità, ma questo sta già avvenendo grazie al nostro Ministro Matteo Salvini. Rispetto però deve esserci per tutti, per questo ringrazio il Governo e la Lega che hanno finalmente rientrodotto l'educazione civica nelle scuole. Il segnale che abbiamo dato all'elezione europea è un segnale importantissimo, perché vuol dire che la Lega sta facendo un ottimo lavoro al Governo, ma è un segnale importante anche per la Regione Lazio, perché è un avviso di sfratto per il Governo Zingaretti. Adesso si ritorna a lavorare per i territori più forti di prima.